TG10.it La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il licenziamento degli ultimi tre assessori comunali pentastellati durante i giorni del Natale appena trascorso. Era nell'aria in effetti da qualche settimana poiché gli atteggiamenti del sindaco in questi mesi di amministrazione sono stati distanti dalle idee non solo dai consiglieri del movimento ma anche dalle logiche del movimento stesso in ambito regionale e nazionale. La delega è rimossa a fabrizionarlo, il pieno dei rifiuti, il protocollo d'intesa del 6 novembre 2014 con Eni, le autorizzazioni firmate alla regione sulle tripellazioni, i due meetup e tutti i mal di pancia che i pentastellati locali espressi pubblicamente in questi mesi hanno fatto in modo di far decidere l'azione di espulsione. Diversi sono i commenti scatenati sui social network ma soprattutto sulle testate più importanti di carattere nazionale. Quello che sta accadendo è Gela e in questo momento è il primo caso in assoluto, un record secondo alcuni, ma siamo sempre più convinti che tutto ciò avviene sotto gli occhi di una città che con il passare del tempo si sta sempre impoverendo e non solo dal punto di vista economico. E non si fa attendere la replica di Domenico Messinese che in una nota stampa commenta Prendo atto di una decisione espressa da una corte marziale in bit ma non condivido, lo ha detto il sindaco di Gela Domenico Messinese replicando dopo aver appreso dai media la notizia della sua escursione dal Movimento 5 Stelle. Non mi appellerò a nessun organo di secondo grado interno solo perché a noi pentastellati o ex pentastellati non è permesso, ma le motivazioni di questa, che è solo l'ennesima esecuzione di piazza, sono degne di un'altra storia, della colonna infame ispirata ai giorni nostri. E infine conclude il primo cittadino di Gela, voglio rassicurare gli improvvisati bookmakers sulla mia identità partitica. Non permetterò a nessuno di mettere il cappello sull'attività amministrativa che sto conducendo in nome di una città che ahimè riesce a ritagliarsi più spazio per le beghe di partito rispetto ai drammi che vive da anni. Per tutti gli approfondimenti sulla notizia potete consultare il nostro portale di tg10.it Bando di selezione per tre operatori socioassistenziali di sesso femminile, lo ha indetto il primo circolo didattico di Gela diretto da Adriana Quattrocchi. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 e 30 del 31 dicembre prossimo. Non farà fede il timbro postale. Per maggiori informazioni consultate il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it Sono stati cofinanziati posizionandosi ai primi tre posti della graduatoria provinciale altrettanti progetti presentati dal comune di Gela al ministero dell'istruzione in relazione all'avviso per le indagini diagnostiche dei solai degli edifici pubblici scolastici. A beneficiare complessivamente di oltre 20.000 euro saranno gli istituti Antonietta Aldisio di Via Feaceo, Enrico Solite, Via Berchè, Lombardo Radice e Via Trapani, tutti costruiti in un periodo precedente al 1970. Le tre scuole sono arrivate rispettivamente prima e seconda con 97 punti e terza con 87 punti. Quest'ultima con quasi 10 punti di stacco dalla scuola media Luigi Pirantello di Milena. La percentuale di cofinanziamento si attesta tra il 30 ed il 53,33%. Accogliamo con soddisfazione questa gradatoria, ha commentato il sindaco di Gela Messinese, auspicando che, alle indagini, segua una nuova tranche di sostegni economici per tamponare le criticità che emergeranno. La sicurezza nelle nostre scuole è un elemento imprescindibile di civiltà, specie in una terra corrosa da palti discutibili in tema di procedimenti e materiale. I finanziamenti nazionali, che complessivamente ammontano a 40 milioni di euro, sono stati autorizzati dalla legge 107 del 2015. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione. Alle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.